Buongiorno cari amici, amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 150. Oggi torniamo a parlare di grammatica e della particella nominale NE. La parola NE la usiamo per indicare per esempio una quantità parziale di un tutto. Quando abbiamo parlato di una cosa e vogliamo indicare una quantità limitata di questa cosa, ad esempio in negozio, se il commesso ci chiede quanto prosciutto vuole e indica una forma intera di prosciutto, noi naturalmente non vogliamo tutto il prosciutto che ha in vendita, ma soltanto una parte. E rispondiamo NE voglio due etti, per esempio la quantità che vogliamo, che significa voglio due etti di questo prosciutto che ha in vendita. La traduzione di NE potrebbe essere quindi di qualcosa e indica una parte di una quantità, di un prodotto o di una cosa che è stata menzionata prima. Un altro esempio. Quanto zucchero vuoi nel caffè? Ne voglio due cucchiaini. Quante mele desidera? Ne voglio due chili. Di che cosa voglio due chili? Voglio due chili di mele. Da FON in tedesco. Quando la parola NE indica una quantità di qualcosa e la frase è al passato prossimo, il passato, il participio passato dovrà concordare in genere e in numero con la cosa. Ad esempio, quanti esercizi hai fatto? Ne ho fatti cinque, perché questo fatto, gemacht, done, si riferisce agli esercizi che sono plurali, quindi fatti. Un altro esempio. Quante giacche hai comprato? Ne ho comprate tre, perché il participio comprato si riferisce alle giacche che ho comprato. Ne ho comprate tre, quindi giacche, plurale, comprate. Il participio concorda con la quantità che viene dopo la parola NE. Per esempio, quante arance hai bevuto? Ne ho bevuta solo una. Quindi un'arancia singolare femminile, quindi bevuta. Questa regola funziona anche con una quantità zero e in questo caso la finale del participio è singolare e concorda solo con il genere femminile o maschile. Facciamo un altro esempio. Quante bottiglie di vino hai comprato? Ne, non, non ne ho comprata nessuna, perché non ho una quantità, perché non ho comprato niente e quindi il participio concorda con bottiglia singolare. Quanti libri hai letto in vacanza? Non ne ho letto nessuno. Non ho letto nessun libro, non ho nessuna quantità, niente. E quindi letto, glazen, concorda con libro. Quindi quando non abbiamo niente, è una negazione, il participio è al singolare e concorda solo con il genere. La bottiglia, abbiamo visto, era femminile, quindi non ne ho comprata nessuna. Il libro, invece, è maschile, quindi non ne ho letto nessuno. La particella NE significa di qualcosa, abbiamo detto, cioè sostituisce non soltanto una quantità, ma anche l'oggetto. Facciamo un esempio, abbiamo già parlato di questo problema, non ne voglio più sentire, non ne voglio sentire più. Quindi di questo problema non voglio più sentire parlare. Conosci Luisa? Personalmente no, ma ne ho sentito parlare. Di lei? Di chi? Quindi di chi? Di qualcosa o di qualcuno. Hai notizie del nostro vecchio collega? No, non ne ho più notizie da molto tempo. Da von, da rüber. Probabilmente in tedesco, no? Quindi NE si può usare per rispondere alla domanda di chi? O di che cosa? Un altro esempio. Hai voglia di andare al cinema? No, non ne ho voglia. Quindi avere voglia di, possiamo dire anche che sono tutti i verbi che reggono la preposizione di. Di che cosa hai voglia? Di andare al cinema. No, non ne ho voglia. Questo NE sostituisce praticamente tutta una frase di andare al cinema. Di che cosa? Andiamo al mare quest'estate. Che ne pensi? Cosa pensi di questa idea, di questa cosa? A volte parlando in italiano si possono usare sia l'oggetto sia il pronome. Semplicemente per rafforzare la frase. Facciamo un altro esempio. Che ne dici di andare al cinema? In questo caso abbiamo il complemento di andare al cinema. E anche la particella NE che traduce la stessa cosa di andare al cinema. La cosa è doppia ma dà più, diciamo, sottolinea, dà più forza all'idea. NE è anche una parte in alcuni pronominali. Come per esempio ci sono dei verbi che hanno dei pronomi all'interno. E alcuni hanno anche questo pronome NE. Andarsene, per esempio, fregarsene, valerne la pena, non poterne più. In questi casi NE fa parte del verbo e viene dopo il pronome riflessivo e rimane invariato per tutte le persone. Facciamo un esempio con andarsene. Vedete che prima questo SE è un riflessivo, lo coniugo e dopo il NE è uguale per tutte le persone e viene subito, direttamente prima del verbo. Nei verbi fregarsene, valerne la pena e non poterne più, il significato di NE è di questa cosa. Me ne frego. Non mi importa di questa cosa. Dice Sache ist mir egal. Non mi importa di questa cosa. Me ne frego. Oppure non ne posso più di che cosa? Di questa cosa. Ich habe sat von dieser Sache. Non ne posso più. Oppure ne vale la pena di questa cosa. Dice Sache ist wert. Was ist wert? Dice Sache. Ma nel caso di andarsene il significato di NE è da questo posto. Me ne vado. Vado via da qui. Quindi andare via. Andarsene è un po' più forte. Per dare un po' più, diciamo, di forza al verbo. Per i verbi pronominali vi ricordo che c'è un episodio a parte ed è l'episodio numero 146. Vi ricordo che il pronome NE, se ci sono altri pronomi nella frase, è al secondo posto. Me ne vado. Se ne frega. E anche con altri pronomi. Per esempio, ho fatto la torta. Te ne do un pezzo. Ich habe einen Kuchen gebacken. Ich gebe dir ein Stück davon. I cooked a cake. Vi ricordo che nel Premium Shop potete trovare alcuni esercizi su questa particella pronominale per imparare questa regola grammaticale e potete avere anche subito le soluzioni. Io per ora ho finito. Vi auguro buon lavoro e a presto con un nuovo episodio. Ciao ciao da Luisa.